Non mi piace filmare qua La 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 Anticipa! Poi se non riceve è meglio! Vai Marco! Grazie! Grazie! Tieni tuo! Tieni tuo! Otto qua, otto! Nooo dai! Bravo! Dai! Bravo! Bravo! Dai, dai! Ballo! C'è! C'è la mano! Dino un'altra volta! è perché c'era il tempo è perché c'era il tempo un attimo bravo Matteo bravo 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 Dai mach! Dai mach! Sì, vince. Ooooooooh! Mi fa! Ahhhh! Ohhhh! Hai carte! È un'ambra! L'ampe! Dai mach! Dai mach! Dai mach! Dai mach! Io non vedo niente con il signore qua davanti, il signore si sposta? L'arbitro come fai e devi spostarci l'arbitro? Tonta! Sì, tonta! Dai, dai! Uh, Marco! Andate, andate tra di voi! Alla, dai! Oh! Grazie! 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 Grazie. 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 Paola, adesso c'è la signorina che mi distrutta. Mettila di pennello. Esatto, ti direi che ci sposti. Pure il nome devi dire. Mi capisco subito chi è. Tira laggiù. Cambia ancora di gestione. Calma ragazzi. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Tienilo. Dai, Luca. Dai, Luca. Dai, Luca. Dai, bravo. Uuuuh. Uuuuh. Tienilo. Bravo. Maria. Maria. Oih, l'olio. Gialla perché gialla? Grazie. Non era fuori. No, no, no. Che casino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oddio. Si è avviato il signore. Ti va, dai Davide. Grazie a tutti. 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 Marco, bravo. Grazie a tutti. 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 a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 grazie a tutti.